Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Sono tornato con Foss Fishing a vostra grande richiesta dunque mi raccomando ragazzi lasciate like, condividete il video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti quest'oggi ho provato a fare un video un po' più differente dalla norma dei video Foss Fishing quindi mi raccomando ditemi qui sotto nei commenti se vi è piaciuto e se vi è piaciuto lasciate un bel like dunque direi di romperte l'altro tempo e via con il video Grazie a tutti se riesco a prendere qualcosa qualche carpa, qualche silura sbagliato a lanciare però non fa niente mancata la Grazie a tutti Prese E' venuta fin fuori dall'acqua per prendere l'esca Vediamo un po'? Ok Buono Dai vieni qua Ha anche ingoiato sta qua Ok Ok Una piccolina Via Piccolina Panciatina Una femmina Vai Dai ti ho riossigenata Guarda Guarda Vediamola 3 2 1 Ecco Ha visto l'esca La sta puntando Ha cambiato direzione E' scomparita E' scomparita Via E' via la seconda Ok Ok Dai Dai Vieni su Vieni su Vieni su Vieni su Vieni su Buono Vieni su Vieni su Vieni su Vieni su Vieni su Vieni su Quella la sembrerebbe una specchi E io ho perso tutta la mano che avevo Ma è pieno Non le avevo notate tutte queste Allora C'ho il vento contro Non sono più abituato Presa Oh prima carpa Con la nimeria Devo dire che è bello vedere questa cannina piegata così E Direi anche che Proprio nelle carpette E' perfetta Botto sentito benissimo In Canna In Canna Tiene in testa però la carpetta O sarò io O sarò io che Non sono abituato Però Mi pare bella Combattiva Una bella carpetta Si Assolutamente La testina ripulita dall'esca E rilasciamola Vissi Si Adesso Appla Mi pare Mi pare Mi pare È Pi Ma Dice La